Nella seconda metà dell'Ottocento, in Russia e non solo, si trovavano molte organizzazioni rivoluzionarie, di stampo socialista generalmente, che raccoglievano tra le proprie fila varie persone, per lo più studenti. Pur suscitando l'antipatia dei reazionari, questi gruppi non erano totalmente mal visti, anzi attiravano l'attenzione non soltanto dei giovani ma anche di una certa borghesia e di una parte del certo intellettuale, che vedevano in loro uno spiraio per emanciparsi dal nazionalismo ed avvicinarsi ai pensieri degli occidentali. Ed è in questo clima che, verso la fine del 1869, a Mosca viene ritrovato il corpo senza vita di uno studente, un certo Ivanov. Ben presto si scopre che è stato eliminato perché aveva tentato di uscire da una di queste organizzazioni rivoluzionarie. Il delitto scuote l'opinione pubblica russa e colpisce anche Dostoievski, che in realtà si trova all'estero, ma, come si vede nelle lettere, ha una gran voglia di tornare in patria e legge le notizie dai giornali. Ebbene, dal delitto Ivanov scaturiscono i demoni. Ed ora scopriremo di che cosa si tratta, ma solo dopo la sigla. Dostoievski in cinque romanzi A cura di Matteo Cirilli A cura di Matteo Cirilli Avrete notato come questo legame ricorre anche nei romanzi precedenti. Ma prima di entrare nel vivo della breve presentazione, è fondamentale delimere una questione. Il titolo corretto è demoni o demoni? Ebbene, è corretta, sarebbe un po' più corretta, la seconda pronuncia. Anche perché il demone, il daimon, pensiamo a Platone, è un'ità divina positiva, ben diversa dal demonio, che è sinonimo di diavolo, incarnazione del male, carondimonio. Ed è proprio del demonio, e quindi dei demoni, che parla Dostoievski. Fatta questa breve introduzione, risulta quindi fondamentale introdurre il tema del male, connesso evidentemente ai demoni. Male che è il perno non solo di questo romanzo, ma che ci accompagna da memoria dal sottosuolo in poi. Ed è quindi necessario fare un passo indietro e riprendere proprio la memoria dal sottosuolo, in cui si identifica il male come realtà ineliminabile, connessa all'uomo, e che la ragione non riesce a soppiantare, come invece credevano i socialisti. E qui cito, tutto al mondo è perfetto, tutto innocente meno l'uomo. L'uomo è talmente corrotto che, mentre a governare l'universo basta la sola legge naturale della conservazione, l'uomo è invece sottoposto a tutti i disordini che gli provengono dal fatto che in lui l'istinto della distruzione è altrettanto presente che quello della conservazione. In delitto e castigo, invece, il male deriva da quelli che Luigi Paraison definisce titanismo e amoralismo, ovvero le tendenze a trasgredire le norme, poiché così facendo è possibile affermare se stessi e la propria libertà. Certo, è anche vero che Raskolnikov, protagonista del delitto e castigo, non è quel nichilista che poi racconta di essere, che uccide una vecchia credendo così, di diventare Napoleone. E poi c'è il protagonista dei demoni, Stavrogin, paladino del male, demonio appunto, in una forma però ancora differente. Citiamo ancora una volta Paraison. La ribellione di Stavrogin non è così vistosa come quella di Raskolnikov, perché non si ferma l'affermazione titanica, pur presupponendola, ma è assai più profonda e radicale, perché culmina nell'indifferenza e nel nulla. Insomma, Stavrogin, ripreso a parlare io, fa del male solo per il gusto di fare del male, anzi, di più, fa del male solo per il gusto di fare. Infatti, ad un certo punto, dice, formulai per la prima volta in vita mia questo severo pensiero dentro di me, che non conosco e non sento né il male né il bene, e che non solo ne ho perduto il senso, ma so che il male e il bene in realtà non esistono nemmeno, e ciò mi faceva piacere, e non sono altro che pregiudizi. Stava in me l'essere libero da qualsiasi pregiudizio, ma raggiunta quella libertà, mi sarei perduto. Ricorda un po' Agostino, che nelle confessioni, descrivendo un furto compiuto in giovinezza, dice «La tua legge, signore, condanna chiaramente il furto, e così la legge scritta nei cuori degli uomini, che nemmeno la loro malvagità può cancellare. Quale ladro tollera di essere derubato da un ladro, neppure se ricco, e l'altro costretto alla miseria. Ciononostante, io vogli commettere un furto, e lo commisi senza esservi spinto da indigenza alcuna, se non forse dalla penuria e disgusto della giustizia, e dalla sovrabbondanza dell'iniquità. Mi appropriai, infatti, di cose che già possedevo in maggior misura e molto miglior qualità, né mi spingeva il desiderio di godere ciò che col furto mi sarei procurato, bensì quello del furto e del peccato, in se stessi». Stavrogin, però, non è totalmente un demonio, o meglio, non lo è all'inizio. È infatti dotato di una doppia personalità. Come gli dice uno sventurato personaggio, Stavrogin è un falso principe. Il problema è che il suo alter ego, Malvagio, finisce per sovrastarlo, come succede in uno dei primi romanzi di Dostoevsky, chiamato appunto Il Sosia. Ma se Golgiakin, protagonista del Sosia, compromette esclusivamente se stesso, Stavrogin distrugge sia se stesso che gli altri. Insomma, egli è l'emblema della distruzione, dell'abiezione e anche quando sembra pentirsi, in realtà gode della propria umiliazione, poiché non ha valori. Ma non è l'unico demonio del romanzo, anzi si può dire che non sia neanche il principale. Infatti a capo del movimento terroristico, rivoluzionario, intorno a cui ruota la vicenda, è Piotr, nichilista dalla violenza e brutalità uniche. Rappresentando lui, Dostoevsky critica non soltanto la nuova generazione rivoluzionaria, fra l'altro bisognerebbe ricordare che anche lui in gioventù era stato rivoluzionario, ma vabbè, ma critica anche la generazione precedente, quella del padre di Piotr, che si chiama Stepan, che viene accusata perché ha, un po' per pigrizia, accettato le nuove istanze rivoluzionarie percepite come più occidentali, più moderne. Stepan, per esempio, è un vecchio debole che si crede un grande scrittore, perseguitato per motivi politici, in realtà è un uomo da poco, che solo alla fine confessa le menzogne su cui aveva costruito tutta la vita e dice io di anzi non vi ho raccontato che menzogne, per vanagloria, per lusso, per ozio, sono tutte menzogne, tutte. Ho mentito sino all'ultima parola, oh miserabile, miserabile, amica mia, ho mentito per tutta la vita, anche quando dicevo la verità. Non ho mai parlato per la verità, ma solo per me, lo sapevo anche prima, ma solo ora lo vedo. Io forse mento anche ora, sì, mento anche ora. Il peggio è che credo a me stesso quando mento. La cosa più difficile nella vita è vivere senza mentire e senza credere alla propria menzogna. Ora mi rendo conto, siamo sotto Natale e forse non è la cosa più esaltante o divertente ascoltare come vengono descritte tutte le possibili crudeltà, abiezioni da un polveroso autore russo dell'Ottocento e che io provo a riportare. Autore che peraltro scaglia continuamente filippiche contro socialisti e nichilisti e se Dostoevsky fosse solo questo vi potrei anche dar ragione. Il fatto è che, come potrete immaginare, è qualcosa di più. Nei suoi romanzi Dostoevsky presenta personaggi in cui è impossibile non riconoscersi o non riconoscere almeno parte di noi e delle persone che ci circondano. E la cosa straordinaria è che non si tratta di personaggi buoni, di cui è consigliabile seguire la morale, ma di esseri turpi, odiosi. Persino i suoi personaggi più buoni, pensiamo al principe Mischin dell'idiota, sono al meglio inermi, inetti, pazzi. Torna in mente il protagonista di Memorie dal Sottosuolo che dice Nei ricordi di qualsiasi uomo vi sono cose che egli non rivela a tutti, ma forse solo agli amici. Ve ne sono anche di quelle che egli non rivela neanche agli amici, ma forse soltanto a se stesso e per giunta sotto il vincolo del segreto. Infine ci sono cose che l'uomo ha paura di svelare persino a se stesso. Durante la sua vita ogni onestuomo ha mocchiato un bel po' di cosette di questo genere. Ebbene, sono proprio le cose che l'uomo non ose rivelare neppure a se stesso che Dostoevsky rivela a noi. Non avrò rallegrato il vostro Natale, ma non è questo lo scopo di Dostoevsky, come ho cercato di spiegarvi. Magari il 24 o il 25, evitate il buon fido, leggetevi Dickens, ecco. Ma già a partire dal 26, quando l'atmosfera festiva si starà già esaurendo, provate a prendere in mano i demoni. Noi ci sentiamo per l'ultimo episodio fra due settimane, sempre sul Micaepod. Avete appena ascoltato Dostoevsky in cinque romanzi, a cura di Matteo Cirillo. Al prossimo episodio, sempre qui, sul Micaepod.